un saluto a tutti gli amici pescatori che seguono tutto spinning oggi come vedete non sono in negozio ma sono venuto in montagna oggi sono venuto a fare una passeggiata in alta quota e poi sono venuto a provare un lago laghi alpini e dei torrentini che saranno teatro di una delle nostre eventi delle nostre guide e delle nostre uscite di gruppo sui laghi alpini sono in val malenco mi sto salendo ai laghi di campagneda e primo incontro della giornata mucche sono le mucche qua dentro che brucano erba e aghi di pino ciao bellissima ti danno fastidio le mosche o ti dà fastidio la campana ciao continuiamo sta più vicinando oggi sarei dovuto venire con la famiglia a fare questa passeggiata ma il meteo non era dei migliori davano temporali più tardi adesso sta più vicinando si sta belli freschi devo dire però la gita con la famiglia è saltata io invece che devo essere ligio al mio dovere e al mio lavoro sono venuto lo stesso in alta montagna elicottero ci sono questi elicotteri che vanno su e giù di continuo mi sa che stanno portando l'acqua in alta quota per il problema della siccità nei rifugi guardate che figata la valle che si apre qui davanti meravigliosa peccato per la strada cementata che tanto ti spezza i polpacci farla era veramente figa e guardate la dietro dietro i pini non so se si vede il ghiacciaio conciato veramente male quest'anno che tristezza alta quota si sale si sale camminata abbastanza semplice il dislivello non è tanto il sentiero spacca un po' le gambe all'inizio perché tutto cementata però poi è un bel sentiero tutto bello facile e qua sopra si sta veramente bene si lasciano i 30 gradi di ricerca 38 gradi a pusiano si lasciano i 38 gradi della città e si viene qua a prendere un po' di fresco speriamo che il vento rimanga così non venga giù il dilugio universale e speriamo che si riesca a pescare qualcosina st'oggi siamo arrivati qua in alto tira un po' di venticello ma dovrebbe andare bene si sentono le mucche in lontananza i laghi dovrebbero essere qua sopra adesso scendo questo questo pezzo qua e cominciamo il primo lago dovrebbe essere solo mosca vediamo come va apriamo il passaggio delle mucche e chiudiamo il passaggio delle mucche ed eccoci al lago piccolino bassino questo dovrebbe essere quello solo mosca mi fermo qua faccio pranzo una merendina veloce e peschicchio un po' pesco qua e poi vado a provare gli altri laghi mi sono coperto un attimino perché tira arietta la schiena è sudata quindi vieni a coprire sempre perché poi adesso pescando sto non mi muoverò tantissimo starò un po' fermo adesso mangio una robina al volo mangio una al volo e anzi a tutti i dettagli che non sta ancora più meglio per fare un po' di drone un po' di drone un po' di drone cazzo mi ha spaccato era bella era bella non ho capito se mi ha spaccato si ma spaccato ma proprio spaccato che mangiata cattiva che cattiveria è venuto su cattiva come non so colla sulla royal wolf una bella fariotta una bella fariotta la prima lancia appena appoggiato in acqua è venuta su scappottino vai va bellina cattiva come poche poi è il primo lancio primo lancio con la royal wolf è venuto su di una cattiveria non galleggia più la royal wolf non galleggia più la royal wolf c'è del bollame là in mezzo però là in mezzo non ci arrivo con la cannetta così corta mi son portato la 7.9 coda 3 anche per pescare nel torrentino se mi da il primo lancio giuro che ci faccio un quadretto a sta mosca non me ne sono accorto ho mangiato da fermo mentre recuperavo immobile era in iridea da fermo ha mangiato sta guardando da un'altra parte quella che cattiveria era sta iridea ah se ne è andata si è liberata e niente oggi ho la royal wolf sta guardando da tutta l'altra parte mi giro non vedo più la mosca tiro sulla canna trota carine quelle nuove lì dietro di là c'è il sole qua ci sono queste nuvolone qua quella è una bella trota l'ha bollato l'ha bollata ma non l'ha presa glielo ho portata via di bocca non so se glielo ho portata via di bocca o lei l'ha rifiutata all'ultimo perché come se non fosse arrivata all'esca mi sembrava mi sembrava quasi un rifiuto che panorami ragazzi adoro sti posti dicevo in questa zona è un po' più difficile camminare perché un vero e proprio sentiero non c'è la riva è un po' più scoscesa ma soprattutto lanciare perché c'è appunto la riva è scoscesa e c'è dietro questo muretto qua bisogna fare di lancio un po' di sbieco però voglio scendere lì perché lì c'è un sassone un piastrellone gigante vuoi che sotto non si nasconda una trota buona lago 1 direi che abbiamo fatto un po' di pesca mosca easy easy adesso vediamo cosa fare con il con il lago 2 di salire sul lago 2 vediamo se fare mosca o spinning mi stavo divertendo a mosca adesso recupero lo zaino questo così mangio un altro panino e poi mi incammino e siamo di nuovo in marcia obiettivo arrivare là sopra dovrebbe esserci l'altro lago dovrebbe l'ho visto prima del drone quindi c'è l'altro lago là sopra quindi obiettivo arrivare là e pescare adesso se riusciamo là dovremmo poter pescare a spinning mi preoccupo un po' questo vento sembrava che si stavano spazzando via le nuvole e invece stanno arrivando ma soprattutto si è alzato questo vento fastidioso speriamo di non soffrire troppo il freddo e speriamo che le trote collaborino ecco l'ho che figata guardate il lago sotto ste pareti di roccia veramente veramente fighissimo quanto amo sti posti non soffrire non soffrire olla figa primo lancio primo lancio a casti a spinning primissimo lancio appena arrivato cos'è mi sembrava un'iridea quando è saltato iridea 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 un'irideina un'irideina vai bella primo lancio subito direi che i pesci ci sono direi che i pesci ci sono e non sono disturbati tra l'altro questo lago qua rimane un po' più riparato sotto queste rocce qua secondo me rimane un po' più riparato dal vento quindi è meglio un'altra al terzo lancio no questa è più incazzata non sembra grossa ma è più incazzata da come tiro direi un'altra iridea si è un'iridea ah si è liberata qua sotto è quando si incazzano così al terzo lancio un altro pesce quarto lancio un altro pesce direi che di pesce ce n'è qua eh no questa è parecchio incazzata oh la madonna non mi sembri grossa però sei incazzata forte figliola quattro lancio e tre pesci attaccati direi non male come lago eh vieni vieni partono incazzatissime poi si calmano e poi si incazzano quando arrivano qua sotto è un'altra iridea sempre stessa paglia più o meno eh quando arrivano qua sotto si incazzano come poche eh da forzo un pochino perchè che colori e che pinne cioè per essere delle iridee sono ben pinnate ah si è liberata da sola cioè un po' più panciuta rispetto all'altra forse per essere delle idee guardate che pinne che hanno un po' più o meno ollà subito appena toccato l'acqua non fate per neanche a tirare sul filo in bando è pieno di pesce questo posto è un'altra rideina è impossibile che in questa ansa così bellina non ci sia un pesce non venga su un pescetto qui c'è il mostro del lago la trota alligatore come direbbe Sanpei è diventato tutto nero nero di là nero di qua nero di là mi sa che do una fuga faccio una fuga pescato abbiamo pescato le trote le abbiamo prese i laghi li abbiamo visti i laghi sono in forma i ragazzi che verranno su con noi nel gruppo si divertiranno di sicuro direi che posso tentare la fuga no però parallelo su quelle rocce mi dispiace non farlo non so se ha ripreso la GoPro ma sta tuonando veramente adesso sta tuonando veramente forte e veramente vicino direi che chiudiamo tutto e ci leviamo dalle scatole in tempo zero perché fulmini in alta quota non vi voglio vedere sta tuonando di là smonto al volo tutto me ne vado metto via tutte e mi devo subito dalle scatole intanto il nostro tratello l'abbiamo prese mentre mettevo via lo zaino ne è venuto giù un altro bello forte un bel tuono di là il cielo sta borbottando vorrei evitare magari non viene giù niente però vorrei evitare c'è un po' di coda e adesso vi fate passare? vi siete messe sul sentierino? grazie troppo gentili ho grazie Grazie a tutti. Non vedo il caprone, vorrei evitare il caprone, ecco il caprone, eccolo lì, è lì sotto che bruca, andiamocene via prima che mi punti, eccolo lì il caprone, mi punterò ad andarmene prima che mi guardi male. Non so perché questa qua mi segue e muggisce. Però piove, sta inizando a piovere, mi sa che anche lei che ha paura dei tuoni, io me la telo. Fuga dai 2000 metri sotto i fulmini. Occhiata veloce al meteo e al radar e pare che le previsioni siano ovviamente cambiate. Adesso danno pioggia, una pioggia che potrebbe arrivare più o meno forte, proprio io ci sono in mezzo praticamente, fino alle 18 di questa sera. Quindi a breve potrebbe arrivare, intanto riesce ad arrivare dei goccioloni, ma non sta piovendo a dirotto. Il temporale dovrebbe rimanere dietro al pizzo scalino che è questo qua, dovrebbe stare più di là, secondo il radar. Però diciamo che non mi fido molto, come è cambiato da stamattina ad ora è cambiato il tempo reale, il meteo, potrebbe cambiare ancora. Ma se magari si alza un po' di vento, fa in fretta scavalcare quella montagna lì. Quindi, fuga! Non so neanche se fermarmi, magari al rifugio a bere qualcosa. Direi di no. Dopo un'attenta riflessione direi che il cielo ha detto no, non fermarti a bere. Vai diretto a casa. Pioviggino bene! Piove, non tanto, roba leggera, però goccioloni, con una certa costanza. Sono arrivato adesso al rifugio, non so cosa fare. Tendenzialmente mi sa che punto giù basso e me ne vo' a casa. Non piove più, però voi non potete mai capire dal video che questi pini qua, che odore che fanno, probabilmente prima li ha piuuto un po' sopra. Ha tirato su un odore di bosco, di pino che è spaziale. Io adoro questo odore, veramente mi manda invisibilio. Intanto guardatela avanti, secondo me ancora là potrebbe essere un muro d'acqua su quella montagna, là sul Disgrazia. Sul lato del Disgrazia. Quindi, da qualche parte sta girando qua intorno la nuvoletta di Fantozzi con l'acqua. Speriamo che non ci catti. C'è questa discesa qua di cemento che mi sta spaccando le ginocchia. C'è un ginocchio che mi fa un male cane a camminare in discesa. E tu cosa ci fai lì in mezzo? Non lo so. No, qui c'è gente che attraversa e tu ti piazzi in mezzo così. Comunque dicevo, ginocchio che mi fa un male cane su questa discesa in cemento. Bisogna buttare giù un po' di pancia mi sa. Però vabbè, comunque camminare così, la scappata di corsa giù dal lago forse è stata più quello che questa discesa qua sul cemento per farmi male al ginocchio. Alla fine della fira sono scappato di corsa a un parolone, però sono molto giù veloce. Sento ogni tanto ancora bobbottare da su, ma si è calmata anche la pioggia, non sta più venendo giù niente. Però anche se col seno di poi sarei potuto rimanere su a pescare, meglio così. Non si scherza mai con i fulmini e con i tuoni. Soprattutto in alta montagna dove comunque cambia il tempo molto velocemente ed è un attimo rimanere incastrati. Vabbè, io praticamente sono quasi arrivato alla macchina. Adesso mi scendo un pochino più con calma così il ginocchio riposo un attimo. Adesso prendo la macchina e me ne vado. Noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi video. Spero che questo video in pesca un po' così veloce vi sia piaciuto. Noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi video. Voi magari intanto andate a pescare e mandatemi le vostre foto se siete andati a pescare in alta montagna. Noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi video.